Mamma, che schifo, ora si incolleranno tutte, sicuro? Ciao ragazzi, ciao ragazzi, allora, nuovo video, questo sarà un video challenge, ovvero 100 strati di mascara, ragazzi, per raggiungere 100 strati, non lo so, non lo so sinceramente perché a un certo punto ho perso il conto, quindi mi sono bloccata, ho utilizzato due mascara e niente, cioè ragazze, dopo qua sono andata così random, quindi li conterò con voi nel momento in cui andrò a montare il video e ogni 10 mi bloccherò e ovviamente mi metterò il pollino, 10 fino ad arrivare a 100, quindi andiamo a vedere cosa ho combinato! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!